Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovate al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata alla lettera aperta alla città di Gela, scritta dal Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, dal Clero e dall'Osservatorio Pastorale Cittadino. Un segno di attenzione ed un messaggio per non perdere la speranza, richiamando tutti e ciascuno all'impegno per il bene comune. Sentiamo. È appena iniziato un nuovo anno e la nostra amata città è chiamata a fare conti con le pesanti eredità che incombono sul suo presente. La crisi occupazionale rappresenta il primo e più mediato tassello di un mosaico di emergenze economiche, sociali e umane. E' quanto si legge in una lettera aperta alla città, scritta dal Vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, dal Clero di Gela e dall'Osservatorio Pastorale Cittadino. Un segno di attenzione e un messaggio che la Chiesa di Gela intende lanciare a tutta la comunità cittadina per non perdere la speranza, richiamando tutti e ciascuno all'impegno per il bene comune. La missiva verrà letta nelle celebrazioni eucaristiche previste nella giornata di domani, giornata della vita, in tutte le parrocchie di Gela. Nella lettera si legge che la crisi dell'indotto causata dalla fine dell'industria petrochimica, la riconversione voluta dall'ENI che però sembra ancora lontana dalla sua concretizzazione, le difficoltà sia pratiche che ideologiche nel renderizzare le energie collettive verso nuove possibilità di sviluppo hanno acuito un forte senso di scoramento che pervade ogni ambito della collettività. Il disagio sociale, economico e esistenziale è laparizziano. Ne è un esempio chiaro la crisi che affligge la famiglia, quel microcosmo così essenziale nella nostra vita che vede annidarsi al suo interno l'aspetto più grave e drammatico di questo tempo, la paura di prospettarsi un futuro. Se c'è un interesse precipuo è proprio la famiglia che oggi occorre guardare con attenzione. La mancanza di lavoro non inferisce sui singoli, sono le relazioni familiari ad essere compromesse dentro un'onda di drammaticità che pesa fortissimamente su coloro che hanno il compito di servirla. Sì, perché mentre si serve la famiglia con impegno, solidarietà e trasparenza amministrativa si promuove il rilancio di una città in condizioni languide e disperate, una città che ancora oggi continua a piangere tanti, troppi morti a causa dei tumori che distruggono prematuramente progetti e speranze di intere famiglie. Una città in cui un livello dignitoso di qualità della vita che dovrebbe essere normale nell'epoca contemporanea è pressoché un miraggio. Alle istituzioni locali di diverso genere, politici, sindacati, credenti nelle diverse confessioni, dirigenti scolastici ed insegnanti, associazioni di solidarietà e quanti sono impegnati nella formazione, si chiede con forza grande responsabilità. Agli amministratori e alla classe politica cittadina si chiede di tralasciare le beghe di partito per far confluire ogni sforzo ed energia verso la socialità, manifestando più attenzione e coraggio a sanare e colmare le numerose carenze economiche e sociali della città. Agli imprenditori locali si chiede l'impegno per una nuova interpretazione del loro ruolo secondo una prospettiva più sociale nell'interesse di quei tanti lavoratori che rischiano a causa della disoccupazione di perdere la propria dignità. Alla comunità dei credenti si chiede di vivere in maniera più incarnata il Vangelo dell'amore di Cristo, traducendo in gesti concreti il messaggio dell'autentica condivisione affinché le persone povere e bisognose trovino modalità di vita più dignitose. A tutti si chiede di essere più autentici e solidali, guardando soprattutto ai nostri cari giovani che rappresentano il volto nuovo della nostra città. È nostro compito, chiude la lettera, a renderli protagonisti, propositivi e intraprendenti delle dinamiche cittadine, giacché solo attraverso la loro partecipazione attiva, le loro idee e il loro coraggio sarà possibile sviluppare realisticamente un percorso di crescita verso una società migliore. Nella ricorrenza della 39esima giornata per la vita, che si celebrerà domani, i gruppi Famiglia, il Centro Aiuto alla Vita e l'Associazione Gela Famiglia promuovono una celebrazione eucaristica con particolare benedizione delle mamme in attesa. Appuntamento alle 17.45 nella Chiesa San Domenico Savio. Adesso torniamo alla politica. Parliamo dello scontro a distanza tra il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle e il sindaco di Gela, Domenico Messinese, sul tavolo della Diatriba. Ci sono le condizioni in cui verse il parco di Montelungo. Il primo cittadino accuse Grillini di fare terrorismo politico. Vediamo. Non c'è pace tra il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle e del sindaco Domenico Messinese. L'ennesimo scontro lo si è registrato nelle ultime ore. Sul tavolo della Diatriba c'è il parco di Montelungo. I pentastellati, attraverso una nota, avevano sostenuto che il parco provinciale affidato al comune di Gela è stato trasformato in una grande discarica. Lì, dove correvano i bambini per le manifestazioni di atletica, oggi c'è una discarica di materiale non precisamente identificato. I grillini hanno chiesto di verificare di chi sono le responsabilità di questo scempio ed hanno auspicato che si proceda immediatamente al ripristino ambientale dell'aria. In una città deturpata dall'industria petrolifera, hanno riferito, è inaccettabile che si continui ancora a creare devastazione. Immediata la replica del primo cittadino. Il gruppo consigliare pentastellato, a distanza di un anno dalla prima denuncia, rivelatasi inconsistente, in mancanza di ispirazione per nuovi attacchi a questa amministrazione comunale, rispolverà il tema relativo a Montelungo, ha detto il sindaco. Fortunatamente, ha continuato il primo cittadino, le forze dell'ordine non cedono a strumentalizzazioni ed il terrorismo politico, evocato dai grillini, continua a fare cirecca. Abbiamo affrontato con efficacia ed economicità la questione dello smaltimento delle palme compromesse dal punterulo rosso, in ossequio alle norme di cui forse i miei detrattori, dice, non hanno contezza o non ne vogliono avere. Tentare di immobilizzare il sistema, arrovellandosi dapprima con la classificazione tra rifiuti speciali e rifiuti organici, e ora addirittura farneticando l'ipotesi di una discarica, qualifica gli autori della discussione. Io, dice Messinese, anziché rincorrere accuse terroristiche, nonostante all'inizio qualche ditta abbia ceduto ad allarmismi minacciosi, ritirandosi dagli appalti, preferisco tutelare il decoro urbano e soprattutto difendere l'incolumità dei cittadini dal collassamento degli arbusti. Questa amministrazione ha deciso di affrontare problemi con determinazione, senza pesare sulle casse del comune. Sarebbe più facile soddisfare l'amico di qualche pseudoambientalista o alimentare discariche che danneggiano l'ambiente e che negli anni hanno arricchito qualche furbo. Noi, dice Messinese, abbiamo deciso di avviare un percorso virtuoso, restituendo la terra linfa vitale, avviando quell'economia circolare di cui tanto qualcuno si riempie solo la bocca. Molto abbiamo fatto e molto c'è ancora da fare, ha concluso il sindaco, ma siamo fiduciosi che con la collaborazione dei cittadini il rispetto dell'ambiente sarà la regola e non l'eccezione. In occasione della ricorrenza della 25esima giornata mondiale del malato, la sottosezione gelese dell'Unità Alsea organizza una serie di manifestazioni. Domani alle 15 celebrazione eucaristica presso la clinica Santa Barbara. celebrazione eucaristica venerdì 10 febbraio, sempre alle 15 presso la casa di riposo Antonietta Aldisio e sabato 11 febbraio alle 9.30 celebrazione eucaristica presso la cappella dell'ospedale Vittorio Emanuele. Alle 16.30 dello stesso giorno celebrazione eucaristica nella chiesa Sant'Antonio di Padova di Piazza Armerina presieduta dal vescovo Monsignor Rosario Gisana. Con la presenza del personale, dei ragazzi delle sottosezioni di Enna e Piazza Armerina. Tre persone arrestate, sette denunciate, 351 soggetti controllati e 107 veicoli ispezionati e il bilancio di un'attività anticrimine di polizia giudiziaria ed amministrativa eseguita negli ultimi giorni a Gela dagli uomini del commissariato diretti da Francesco Marino nell'ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio. Manette per Giuseppe Vincenzo Nocera, 62 anni. L'uomo deve scontare ai domiciliari un anno per violenza privata e lesione personale aggravate in concorso commessi nel 2007. L'ordine di esecuzione è stato messo dalla Procura della Repubblica del Tribunale gelese. Due anni e sei giorni in carcere per il 26enne Alessandro Di Fede deve rispondere di reati aggravati contro il patrimonio. Per un cumulo di pena deve spiare tra le mura domestiche 10 mesi e 10 giorni il gelese Simone Nicastro, di 34 anni. Un 21enne è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato sorpreso in sella ad un ciclomotore privo del casco protettivo e alla vista degli agenti è fuggito a velocità sostenuta per le vie cittadine compiendo manovre spericolate tra le auto in transito. Le ricerche hanno consentito di individuarlo e di segnalarlo alla magistratura. Il motorino è stato sequestrato. Il giovane deve rispondere anche di gravi violazioni al codice della strada. Accesso abusivo ad un sistema informatico e l'accusa mossa ad una 32enne. Due gelesi di 45 e 57 anni sono stati denunciati per aver utilizzato più volte un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo di cui avevano la custodia giudiziale. Dovrà rispondere di violenza sulle cose e da proiezione indebita un uomo di 42 anni. Un 23enne è stato denunciato per avere minacciato in diverse occasioni l'ex consorte ed un 53enne per detenzione abusiva di munizionamento e detenzione illegale di munizioni da guerra. Sequestrati 4 fucili da caccia. Il porto d'armi sarà revocato. Controlli amministrativi sono stati eseguiti a carico di venditori ambulanti. Contestate 46 infrazioni. Disturbi psichici nella globalizzazione dalla crisi del campo familiare, sistemi di cura per dipendenze, onoressie e distruttività. È il tema di un convegno che si svolgerà al Teatro Eschilo di Gela, venerdì 10 febbraio alle ore 10. Al seminario, oltre a professionisti locali come medici, insegnanti e assistenti sociali, saranno presenti Francesco Comeli, psichiatra psicanalista, e Alessandro Raggi, psicoterapeuta e psicanalista. Il convegno è promosso dall'associazione Movi Gela con il sostegno del CESVOP e il patrocino del Comune di Gela. Introdurrà e modererà i lavori la psicologa e psicoterapeuta Nuccia Morselli. Vite pratiche, le nuove emergenze adolescenziali. Troppo web, poco studio, tanta anaffettività. Si tratta del tema del convegno che si trarà lunedì 6 febbraio alle 11 nell'aula magna della scuola secondaria di primo grado. Ettore Romagnoli di Gela, retta da Sandra Scicolone. relazioneranno Sandra Micicchè, Francesco Pire e il giudice della sezione penale del Tribunale di Gela, Mari Camarino. E ne dicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport, diffusione comprensoriale. Questi gli argomenti più importanti del numero. Il futuro industriale di Gela è la riconversione del petrolchimico. La saga delle occasioni perdute continua. Un'intera pagina con interventi a più voci. Parlano infatti i sindacalisti, il vice sindaco siciliano e Morgana per l'opposizione. Il servizio di Franca Gennuso Cordaro nella sua rubrica politicamente scorretto di prima pagina prende lo spunto dal riconoscimento di Palermo come prossima capitale della cultura per mettere a nudo le tante negligenze dei nostri politici. Nella politica Nello Lombardo fa il resoconto delle ultime sedute consigliari mentre Lucrezia Ferro incontra l'assessore lavori pubblici di Niscemi Carlo Attardi. All'interno articoli di attualità e cultura, la pagina delle aste giudiziarie e lo sport. Tra le consuete le finestre sulle due maggiori squadre di calcio cittadine, Gela e Terranova, e sul tennis da tavolo. Chiude la pagina degli annunci economici gratuiti, affari e lavoro. Il centro Lilium Benessere premia l'amicizia e presenta le nuove promozioni con gli appuntamenti porte aperte. Sbocciano così da Lilium Benessere le nuove promozioni che premiano l'amicizia. Quello che stiamo illustrando è un trattamento assolutamente innovativo e l'utilizzo principale è quello di un autotrattamento da poter effettuare anche a casa, in ufficio, perché ha la durata massimo di 10 minuti. Come sta dimostrando l'operatrice, vedete che effettivamente la maschera è già pronta, è un kit completo per la durata di un mese. L'obiettivo principale è quello di continuare i nostri trattamenti da effettuare in istituto con le apparecchiature per continuare lo stesso trattamento a domicilio. Quindi va applicata la maschera già pronta, è divisa in due proprio per facilitare l'utilizzo e subito dopo viene applicato, come vedete c'è un'applicazione, si può scaricare direttamente sul proprio telefonino e l'applicazione già permette di effettuare il trattamento da soli. Come vedete è molto facile l'applicazione, dovete dire che dura da quando viene avviato 10 minuti. In questi 10 minuti si può fare anche qualsiasi cosa, si può stare semplicemente 10 minuti tranquilli, distesi, guardare la televisione, ma addirittura anche lavorare. Dopo 10 minuti la maschera viene tolta e si vedrà subito l'effetto. Chiaramente l'effetto a maggior ragione viene prolungato dopo aver fatto il trattamento qui in istituto. Il kit completo è dotato non solo di 5 applicazioni che possono essere anche ripetute due volte a settimana, ma anche di una crema. Il kit completo, come si può vedere, è composto da 5 maschere già pronte che possono essere riutilizzate almeno due volte durante la settimana e questo trattamento permette di prolungare i trattamenti in istituto con le apparecchiature più sofisticate. Questo è un'importantissima innovazione perché permette di veicolare i prodotti principi attivi più in profondità e quindi far durare più a lungo i trattamenti effettuati in istituto. Tra l'altro è composta anche da una crema che può essere utilizzata ogni giorno. Il tutto tra l'altro in questo momento è in promozione perché tutto il trattamento completo più il completo anche di crema. Al momento è 69 euro in offerta. Considerate che i risultati si vedono già immediatamente e il trattamento può essere comodamente effettuato a casa. Prenota anche tu il tuo appuntamento con il benessere e la bellezza. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Lunedì 6 febbraio alle 9 il comune di Vittorio ospiterà un incontro per la partecipazione dei territori e delle comunità locali alle scelte del costituendo gruppo di azione locale Valli del Golfo per l'elaborazione di una strategia per lo sviluppo locale di tipo partecipativo in particolare del piano di azione locale. All'iniziativa prenderanno parte tra gli altri il sindaco di Gela Domenico Messinese, l'assessore comunale allo sviluppo economico Simone Siciliano ed esperti facilitatori a disposizione di portatori di interesse e cittadini. Al centro dei lavori l'atto costitutivo e lo statuto del GAL Valli del Golfo, la rilevazione dei punti di forza e di debolezza del territorio per la definizione dei fabbisogni prioritari di intervento nel Palle e la condivisione degli ambiti tematici di intervento della strategia. La pubblica assistenza Trinacri Emergency, già a Giubbe d'Italia, apre le iscrizioni per diventare volontari presso la sede della pubblica assistenza in via Falcone con Trada Brucazzi a Gela. Il 7 febbraio prossimo inizierà il nuovo corso gratuito teorico pratico per aspiranti volontari del soccorso aperto a tutti i cittadini di entrambi i sessi che abbiano compiuto almeno 16 anni. Durante il corso saranno trattati argomenti sanitari di primo soccorso, protezione civile, diritto, conoscenze delle attrezzature, dei presidi presenti sulle ambulanze e prove pratiche. Per informazioni bisognerà chiamare il numero 0933 91 44 19, inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica trinacriemergencychioccio alla gmail.com oppure visitare la pagina facebook Trinacri Emergency Gela. Adesso apriamo la pagina dello sport Gela a caccia dell'ennesimo successo. Domani al Vincenzo Presti sarà di scena il Gragnano. I biancazzurri tornano a giocare dinanzi al proprio pubblico dopo quasi un mese. Vediamo. Il rullo compressore Gela torna a calcare il terreno di gioco del Vincenzo Presti. Non gioca dinanzi al pubblico amico dallo scorso 8 gennaio. Era la prima giornata del girone di ritorno. Fini 3 a 0 per i biancazzurri contro il Pomigliano. Poi tra rinvi per maltempo recuperi due trasferte di seguito con altrettante vittorie. La prima domenica scorsa a Santa Maria Capovetale contro il Gladiator e l'altra mercoledì a Sersale. Tre successi consecutivi ottenuti sul campo. Quattro se si considerano i tre punti arrivati dalla rinuncia del Due Torri. 12 punti in quattro gare. Un rolino da capolista e la vetta della classifica dista soltanto quattro lunghezze. Domani con inizio previsto per le 14.30 il team allenato da Pietro Infantino riceverà la visita del Gragnano. Una partita difficile come tutte le altre. Anche quella di Sersale che sembrava più facile alla fine si è visto che era una partita molto difficile. Un campo bruttissimo che meno male abbiamo vinto. Indispensabile domani la presenza massiccia dei tifosi. Era il nostro obiettivo sin dall'inizio del campionato portare la gente allo stadio. Il giovane attaccante gelese fa un passo indietro a mercoledì. E' stato lui l'autore del gol partita col Sersale. All'inizio pensavo che colpisse il palo. Poi invece è entrata così. Ho visto i ragazzi tutti attorno a me. Una sensazione bellissima. Un gol da tre punti. Importantissimo per la squadra e importantissimo per te. Sì, quando le partite si mettono così è difficile sbloccarsi. Comunque sì, un gol bellissimo. Comunque ringrazio il mister per la fiducia, i ragazzi. Comunque è un campo davvero difficile perché loro si sono chiusi tutti indietro. Quindi non era molto facile segnare. Nel Gela non ci sono titolari inamovibili. Tutti danno il 100% quando sono chiamati in causa. Ci sono stati altri giocatori come tipo Maurizio, Giuliano che sono entrati in campo come me che in venti, in venticinque minuti dai tutto quello che hai. Perché quando parti dalla panchina non si sa mai se entri o no. Poi quando entri succede così. O dai tutto o è come se non sei entrato. Appuntamento domani dunque alle 14.30 al Vincenzo Presti. C'è da scrivere un'altra pagina storica. Ma questo Gela, in tutta sincerità, dove può arrivare? Perché parliamo di un rullo compressore. Tre partite, tre vittorie, due successi in trasferta e una squadra che gira a mille. Non ci so. Più alti siamo, meglio è per noi e per tutta la città, penso. Però intanto già avete ottenuto la salvezza matematica. Sì, quello sì. Infatti diciamo che c'è stato un piccolo festeggiamento nello spogliatoio. Adesso ci occupiamo dei giochi nazionali invernali che si svolgeranno a Bormio. Sarà presente anche l'associazione Orizzonte Gela di Natale e Salù. Ci sentiamo. Iniziamo quest'anno con i giochi nazionali che si faranno a Bormio, i giochi nazionali invernali, dove i nostri ragazzi parteciperanno con la corsa con le racchette da neve, appunto, allenandoci in spiaggia. Quest'anno abbiamo altri due ragazzi che faranno questa bella esperienza, conosceranno la neve. E quindi iniziamo bene questo 2017. Quanti sono i rappresentanti della vostra associazione che partiranno e che viveranno questa fantastica esperienza? Sono sei, di cui quattro faranno la staffetta. Anche questa nuova esperienza è tecnicamente valida perché è importante cambiare il testimone al momento giusto. Quindi è importante che si comincia a fare sempre più esperienze per poter magari il prossimo anno fare delle altre discipline più complesse. La vicenda ha degli aspetti interessanti su tanti versanti. Innanzitutto, ovviamente, quello sportivo in cui ci sarà una gara di tutto rispetto con il confronto con altre realtà italiane. Ma poi questi atleti imparano l'autonomia, che è una cosa fondamentale per voi? Sì, l'autonomia è una nuova esperienza, come mettere le ciaspole. Quindi l'allacciarsi e rilacciarsi e quindi anche nuovi schemi motori perché sono tutti diversi dalle scarpe normali quando noi la mattina ci alziamo e mettiamo le scarpe. E quindi imparano a conoscere altri strumenti, altri meccanismi, ma soprattutto imparano un ambiente nuovo, un ambiente sulla neve, nuovi amici perché normalmente sono persone che frequentano la neve e quindi che non incontrano nei giochi nazionali spesso. E quindi nuove amicizie e un nuovo modo di incontrarsi durante l'anno attraverso Facebook, attraverso il contatto telefonico e quindi è importante l'aspetto sociale. Le famiglie come vivono questo nuovo approccio? Le famiglie, quelle nuove, chiaramente non credevano. Noi quest'estate abbiamo fatto dei test per i ragazzi e abbiamo visto che avevano delle abilità di base per poter cimentarsi in questa nuova disciplina. E dico con molta meraviglia che molti ragazzi che pensavamo che non potessero fare questa disciplina con la neve, con delle ciaspole un po' ingombrante rispetto alle scarpe normale e invece hanno fatto dei buoni risultati. La gara in cosa consiste? Consiste, noi faremo gare di 25 metri, 50, 100 metri, la staffetta 4%, 200 metri, diciamo diverse misure perché diverse le abilità dei nostri atleti. Giorni di permanenza? Dal 5 al 10 a Borneo. In bocca al lupo? Appuntamento con la musica al Palazzo Principessa Roviano Pignatelli di Gela. Domani alle 19 si esibiranno Lorenzo Giuseppe Lima al Clarinetto, Patrizia Pane al Fagotto e Tania Cardillo al pianoforte. Adesso c'è l'informazione cinematografica. Florence e film in programmazione all'antidoto di Macchitella a Gela. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola, 17.30, 19.30 e 21.30. Per sempre, malgrado tutto, si tratta della commedia di Pina Insegno, prevista per oggi alle 17.15, per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per quelli del turno A. Appuntamento al Teatro Comune Aleschino di Gela. I biglietti hanno un costo di 12 euro. Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui a tutti voi, un buon fine settimana, arrivederci.